Buonasera, ben ritrovati a Vita d'Atleta. Ho il piacere di ospitare quest'oggi Vincenzo Capelli, azzurro di canottaggio. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno a te. Per te è la prima volta a Livigno? Mi sembra di no. No, sono non un abitué, ma mi piacerebbe. Sono stato qua il quadriennio scorso, ho avuto la fortuna di venire quattro volte e abbiamo fatto un po' di preparazione estiva e un anno invece l'anno olimpico siamo venuti a dicembre e abbiamo fatto un paio di settimane per fare ossigenazione e tutte le volte sono entrato benissimo. Un lago che da quando è diventato navigabile è diventato appetibile per i nazionali, ma anche per altre nazionali, straniere, che da qualche anno usufruiscono di queste nostre acque. Livigno è fantastico. Poi c'ha appunto la possibilità di allenarsi in quota su un lago, già di per sé difficilissimo. In più l'ambiente si è immerso in un mare di sportivi. Noi in questo periodo stiamo facendo questa fase di allenamento intenso per aumentare l'ossigenazione sanguigna. Ci troviamo immersi in nazionali di sci di fondo che provengono da tutta Europa, ciclisti, nuotatori. È un bel ambiente. allenamento di vario tipo, tante ore in palestra, in acqua naturalmente in barca, ma in questo periodo è autunno qua Livigno avete anche potuto sfruttare l'anello di neve. Vi siete cimentate sugli sci da fondo. Un bel allenamento. Sì, sì, assolutamente. Un bel allenamento di sicuro perché non essendo dell'ambiente è tre volte più faticoso del normale. Abbiamo trovato quello che cercavamo, tanta fatica e poi serve anche per la testa per cambiare. Comunque nove mesi sempre a remare, sempre concentrati su quello che facciamo, anche variare il gesto tecnico e ci porta a cambiare i movimenti che facciamo. Quindi comunque non ci adattiamo sempre alla ripetitività del movimento. In più è bello farsi, tra virgolette, un giro qua a Livigno e vedere questo bellissimo posto. Avete avuto modo di vedere, me l'hai già accennato tu, i vari campioni. Effettivamente ci sono stati i campioni di livello mondiale come un Dario Colonia, uno svizzero che vince in Coppa del Mondo e vince i mondiali, gli azzurri anche, quindi il top del fondo mondiale. Ti hanno impressionato, Vincenzo? Sì, assolutamente. Comunque uno parte, nonostante il divario tecnico con queste persone che lo fanno per mestiere, che insomma vanno a competere a livelli altissimi, parti concentrato per cercare di dare il massimo e poi vedi che ti girano attorno dieci volte così e ti passano incredibili, sembra che volano sulla neve, molto bello. E' quello che fate poi voi. E poi è stimolante. Beh, certo. Sì, poi credo che anche tecnicamente abbiate avuto l'occasione di studiarli e magari vi hanno aiutato per migliorare un po' anche il gesto tecnico. Sì, comunque li vedi passare avanti a te, hai il top dello sci e provi a emularli. Poi col cronometro sempre alla mano e che la competizione è nel sangue. Cerchi di andare più forte e più forte e magari farti doppiare una volta di me. Beh, comunque come a voi sembrano leggeri, perché forse è proprio la loro leggiadria che fa specie, sulla neve ovviamente è la stessa cosa per voi, sull'acqua. Quindi ha ognuno il suo lavoro. Ti trovi in un mini raduno, Qualivigno? Sì, questo è un mini raduno organizzato dalla mia società di appartenenza, che è il Circolo Canottirianiene. Sono venuto qui assistito dal mio allenatore Giovanni Suarez, il preparatore atletico Marco Paiella e il nostro fisioterapista Alessandro Astoria e l'immancabile compagno di barca e colui che mi deve sopportare tutti i giorni, Niccolò Mornati. Siamo qua ormai da questa terza settimana, il carico si sta iniziando a far sentire, sentiamo i benefici dell'allenamento, teniamo duro fino alla fine della settimana e poi giù di nuovo a Roma per riprendere il remo in mano. Niccolò Mornati, un compagno non di lunga data. Io e Niccolò siamo compagni di società da diverso tempo, perché lui era già membro della Niene, quando io ancora non avevo preso il remo in mano, ancora non avevo iniziato e diciamo era il campione da emulare. Vedevo lui e il resto dei ragazzi che in quel periodo facevano l'otto, che si allenavano ed erano uno stimolo per me. Poi dal 2009 sono entrato in squadra nazionale assoluta e è diventato il mio compagno di squadra, però non abbiamo mai avuto la possibilità, se non in società con i campioni italiani, di remare insieme fino a quando l'anno scorso si è prospettata davanti la possibilità di intraprendere questa sfida come outsider con Niccolò, che aveva tanta voglia di rivincita dopo la scorsa Olimpiade e io che volevo rimettermi in gioco dopo due stagioni che non sono state il massimo, in caso di un po' di infortuni, un po' di problemi personali e niente. Abbiamo sposato questo progetto, ci siamo messi testa bassa e siamo riusciti passetto dopo passetto prima a conquistarci uno spazio di nuovo in nazionale, poi a vincere la selezione con la barca con cui abbiamo partecipato ai mondiali di equipa Elet a settembre e infine guadagnare l'accesso alla finale che ci ha regalato il pass per Rio de Janeiro. La strada è ancora lunga perché il pass è solo riferito all'armo, quindi il due senza è qualificato e Niccolò dobbiamo lavorare duro per e riconfermarci prima in Italia, ma soprattutto per andare a raccogliere il bottino grosso perché la finale non basta a nessuno. Vincenzo, tu hai nominato il due senza che è la vostra imbarcazione, ci spieghi un po' la differenza, il due senza, due con, due di coppia eccetera eccetera? Allora, partendo dalla premessa quella più difficile in cui molto spesso la gente magari si confonde, il canottaggio si pratica su una barca e non su una canoa e questa barca può essere composta o da un solo vocatore o da due vocatori, da quattro e da otto vocatori. A quel punto si dividono in vocatori che hanno due remi, quindi compiono questo gesto qua, sono i vocatori di coppia, oppure i vocatori che hanno un remo, quindi vanno o di qua o di qua e di conseguenza devono avere un compagno che compie lo stesso movimento nel senso opposto, altrimenti la barca ci sarebbe su se stessa. Quindi la barca più corta per i vocatori di punta è il due senza, quello che stiamo facendo io e Nicolò, dove io remo da un lato, Nicolò rima dall'altro, si dice senza perché non ha il con, questo con è il timoniere. È il pepinello di capo, così si chiamava. Il pepinello di capo, che di solito si accovaccia dentro la prua della barca e con una sticella timona l'imbarcazione e dà i comandi all'equipaggio, gli incita, gli fa capire quello che succede attorno a loro. Mentre invece nel due senza, per riuscire a muovere la barca, uno dei due dei due vocatori ha sul piede una scarpetta che si muove, a cui sono collegati due fili che fanno girare il timone. Quindi oltre a dover seguire magari il compagno, a dover pensare al ritmo o allo sforzo fisico, deve pure essere concentrato sulla direzione della barca e muove il piede. Io in quello sono tremendo, quindi fortunatamente Nicolò è bravo, io lo regalo a lui, ci pensa a lui. Per forza deve stare davanti colui che governa col piede? No, sarebbe meglio. Io sto davanti, quindi davanti a me ho direttamente la poppa, quindi riesco a vedere i movimenti che fa. Sarebbe meglio che ce l'avessi io, però non è proprio nel mio DNA. Ci sto provando. Noi Nicolò è tanto bravo, lasciamoglielo a lui. Certo, al limite ti passerà qualche segreto, ma più avanti. È difficile vogare all'unisono, trovare una giusta sequenza, una giusta alternanza, far andare l'imbarcazione diritta, forse questo, non lo so, non me ne intendo proprio. Sono tanti i fattori che si uniscono insieme. Parti dal presupposto che tu conosci il tuo corpo, conosci le tue sensazioni e quelle che è il tuo ritmo. Quindi tu hai, immaginiamoci un giro, un tuo giro. La persona che sta dietro di te, che è un'altra persona, deve essere esattamente uguale a te in tutto. E questa è la prima difficoltà. La seconda è che tu sei su un mezzo, quindi non sei solo te che devi avere a che fare solo col tuo corpo, ma hai a che fare con il tuo corpo e un guscetto che è un po' più largo di te che sta in disequilibrio sull'acqua. In più hai un remo che è lungo 4 metri quasi e la forza che tu devi applicare, non la applichi tipo sui piedi, correndo o senti l'acqua nuotando, tu la devi applicare a quasi 3 metri di distanza. E l'altra persona deve farlo nello stesso tuo modo, nello stesso momento e cercando di fermare il meno possibile la barca che va nel senso opposto in cui tu vai. Perché io ero così, mi accovaccio e parto, mi accovaccio e parto e la barca intanto sta andando nell'altro senso. Quindi ogni volta che io mi accovaccio porto 100 kg sulla poppa e la fa andare indietro. Quindi devi essere una farfalla mentre vai ripresa e la persona dietro di te deve essere la tua fotocopia e devi scatenare più potenza possibile nello stesso momento del tuo compagno quando vai a eseguire il colpo. Quindi è il compagno che sta dietro, che si adegua un po' al gesto di quello che sta davanti? È un po' un compromesso, sicuramente la persona dietro deve essere fenomenale nel seguire la persona davanti e la persona davanti comunque sente la persona dietro, quindi si deve adattare. Chi ha detto il ritmo? Io ho detto il ritmo, io sto davanti e ho detto il ritmo. Di che materiali sono composti imbarcazioni e remi? Allora la barca che usiamo noi, che abbiamo usato all'ultimo mondiale, è una barca del cantiere Filippi Lido, che è un cantiere che sta in Toscana, sono leader nel settore in Italia e la barca è composta interamente di carbonio, materiale leggerissimo e super resistente e sopra l'imbarcazione vi è posto uno scalmo che negli ultimi modelli è una specie di ala che da sopra la barca si estende fino a un po' fuori e alla fine di questo scalmo c'è una bocchetta, una specie di incavo diciamo, dove si appoggia il remo e dove poi vai a applicare la pressione del remo e il remo pure è interamente in carbonio, tranne il manico che è del materiale che ti è più congeniale per le mani, perché alla fine tu il contatto con la barca ce l'hai con i piedi, il sedere e le mani e sulle mani c'è il remo e si può avere di legno, di plastica, di gomma morbida, quello è un po' una cosa personale. E quando viaggiate come? Viaggiamo è un disastro perché devi smobilitare una quantità di persone, mezzi, mi ricordo quando siamo andati a fare i campionati del mondo in Nuova Zelanda. Quindi due giorni di viaggio? Quindi noi due giorni di viaggio, ma la barca è tutta da partire in nave, quindi a gennaio facciamo le ultime prove, gennaio e febbraio, le ultime prove su quale imbarcazione scegliere. E l'abbiamo caricata sul cargo e è andata e poi per il periodo di transizione tra gennaio e la data dei mondiali abbiamo usato un'altra barca. Poi arrivati lì, scaricata dalla nave, messa su un carrello, attaccata dietro a una macchina, portata al lago e poi sembra allucinante ma tutte queste imbarcazioni hanno delle regolazioni millimetriche e un solo millimetro, un solo grado di inclinazione delle remo al vocatore esperto dà una sensazione diversa. Certo, quindi dovete ricalibrarla. Sì, va ricalibrata, rimpostata e poi in base alle sensazioni che hai modificata. È un setting continuo, è quasi come un'automobile di Formula 1. Certo, solamente che appunto questi viaggi, ma accadrà anche quando andrete negli Stati Uniti oppure in Nuova Zelanda perché appunto era un posto lontanissimo? Sì, quelli sono i viaggi estremi. Logicamente quando le gare sono in Italia si prende, si smonta, si mette su un carrello e quella va. Ok, però intendo, quando fate viaggi in aereo accade sempre che dobbiate imbarcarla in nave? Intercontinentali sì, sempre. Adesso per Rio probabilmente andrà salutata a febbraio e la ritroveremo là. In che periodo, in che mese saranno le Olimpiadi a Rio? Ad agosto. Ad agosto. Con il nostro sport poi noi siamo i primi, in assoluto. Penso che dopo le cerimonie di apertura noi gareggeremo proprio il giorno successivo. Ciò significa che niente cerimonie di apertura per voi? Niente cerimonie, sono stato fortunato a Londra. A Londra sono riuscito a vederla. Sì, per me ne parte, è stato pazzesco. Tornando ancora al discorso di imbarcazione della barca appunto, non è mai capitato che arriva in sede ed è rotta? Gli incidenti capitano, a me è successo nel 2009. Ho partecipato a un campionato del mondo in Repubblica Ceca, che dopo il caricamento, porta, fai, briga, monta, la lasciamo sulle rastrelliere, sono delle specie di, sì, proprio delle vere e proprie rastrelliere. Con tutte quante le barche, la notte, la sede ci dicono, ragazzi legatela bene che sta arrivando un temporale. Il giorno dopo siamo arrivati al campo e l'unico castello di tutti quanti quelli con tutte le barche caduto era il nostro. Quindi tutti i quattro con, che era l'imbarcazione che facevo quell'anno, erano distrutti. Quindi smobilitati, interventi dall'Italia, con la macchina, apprendere a trovare una barca, poi con le prerogative come quella là, a portartela di corsa. In quei giorni che non c'avevamo la barca dovevamo fare allenamenti alternativi. È stato un bello stress. Vincenzo, usate dunque gambe e braccia, c'è una parte del corpo che deve essere più performante rispetto ad un altro oppure si compensano? Allora, le gambe sono il motore, sono la parte più importante. E poi la seconda è il dorso, il busto, perché è la seconda parte dell'azione. E infine le braccia, che uno pensa che siano quelle che danno più velocità, anche se in realtà sono quasi un movimento che serve per prepararti al colpo successivo. Quindi decisamente il più importante sono le gambe, poi il busto e poi le braccia. Veniamo alla tua carriera, o meglio ai tuoi esordi. Come hai cominciato con il canottaggio? Io ho cominciato con il canottaggio nel 2006, dopo aver provato tanti sport, che vengo da una famiglia in cui mio padre e mia madre hanno sempre praticato sport. Mio padre è tuttora socio di un circolo romano, il canottiere agniene, appunto quello in cui pratico il canottaggio. E dopo numerosi sport, basket, calcetto, tennis, un anno mi disse, ma perché non provi a fare il canottaggio come ho fatto io? Tant'è che quell'anno avevo un problema al ginocchio e non riuscivo a correre, potevo però stare seduto e fare il simulatore. Ho detto, vabbè, proviamo. In più ero cicciottello. E chi l'ha proprio mai detto? Tanto cicciottello. Un po' per l'ambiente, un po' per il fatto di seguire le orme di papà, un po' perché dimagrivo e stavo meglio, mi piaceva. Ma soprattutto perché sono un gran rosicone e vedevo gli altri che erano più bravi e volevo batterli. Mi sono appassionato e passo dopo passo ho cercato di pormi sempre obiettivi più grandi. Mai pensando che un giorno eri potuto sognare di andare a un'olimpiade. Né tanto meno di vincere un mondiale. Né tanto meno di vincere un mondiale. Come ti è accaduto nel 2011? Sì. Ce lo racconti? Sì, il 2011 è stato un anno particolare, un anno difficile. L'anno prima dell'Olimpiadi di Londra, l'anno di qualifica. Quello in cui è importantissimo non sbagliare perché la stagione successiva dipende da quella. Certo. Io ho fatto tutto l'anno barca con i miei compagni dell'anno precedente, fino a quando a tre settimane dall'appuntamento non fui scartato, tra piccolette, dal direttore tecnico. E' messo su un'altra imbarcazione, il due con, con un altro ragazzo, Pierpaolo Frattini, anche esso scartato da un'altra selezione. Quindi messi insieme, ragazzi andate. Arrangiatevi. Grande rabbia che è scaturita poi in questo mondiale che ci ha regalato l'emozione di diventare campioni del mondo. Dov'era il mondiale? Era a Bled, in Slovenia. Un lago meraviglioso. Sembrava una cartolina. Quindi non eravate pronosticati? No, outsider. Ricordo quando arrivai là, fecero un'intervista agli Stati Uniti, che erano uno dei nostri avversari, che avevano perso la batteria proprio contro di noi. Dicevi, ma vedo un bel affiatamento, quanto tempo hai che preparate questa barca? Bah, sono tre settimane che ci siamo insieme. Ah, questi fronti via. Sì. Una bella soddisfazione. E come mai poi hai abbandonato quel tipo di imbarcazione? Il due con non è una barca olimpica. Il sogno è l'Olimpiade, la medaglia è l'Olimpiade, quindi sebbene fosse molto bella, come sensazione, come riuscita, perché siamo riusciti a vincere, non ci stavamo a continuare ad andare su quella. Entrambi ci siamo messi in gioco e Pierpaolo è riuscito a partecipare all'Olimpiade in un punto in quattro di coppia, la barca in cui era stato scartato l'anno prima, io in quattro senza, la stessa identica cosa. Come andò? Sfiorammo di poco la finale, in semifinale non fumo molto fortunati con i sorteggi, avevamo contro il primo, il terzo e il quarto, quindi o eri da terzo posto o non passavi. E poi in finale B eravamo secondi. Rammarico? Rammarico per come è andata la cosa, perché era tutto l'anno che facciamo questo quattro senza con un equipaggio abbastanza collaudato, a un mese dalle Olimpiadi io e il mio compagno fumo scartati di nuovo, furono messe altre persone sull'imbarcazione, sconvolgendo totalmente quello che era tutto il progetto dell'anno, e non camminavano questa barca e fumo rimessi sopra con un'altra formazione ancora e quindi trovavamo un assetto a due settimane dalla partenza. Dopo quattro anni di sacrifici trovarti tutto diverso è uno shock psicologico, ma soprattutto di assieme, perché è uno sport talmente particolare, talmente d'assieme, che ci sono meccanismi che si stavano dopo anni, dopo tantissimo tempo e quindi diciamo che siamo andati all'Olimpiadi con una sciabola in bocca, all'arrembaggio a vedere quello che succedeva e giorno dopo giorno crescevamo, pure durante gli allenamenti, durante le gare, un po' quello è rammarico, perché alla fine non si vive di sé di ma, però sicuramente si poteva fare meglio. Chi sono i più forti al mondo? Nel due senza sono i neozelandesi, un equipaggio incredibile. Di lunga tradizione, se non sbaglio. È dal 2009 che non perdono una gara, qualunque essa sia, batterie semifinali, finali mondiali, europei, niente, non hanno perso una gara e ormai non sono quasi più quotati dai bookmakers, sono due atleti straordinari. Che cosa pensi faccia la differenza, talento, forza? Sono un po' tante cose insieme, sicuramente la genetica, comunque un paese che ha proprio culturalmente lo sport nel sangue, in più sono di derivazione anglosassoni, quindi belli e robusti. E poi tanto allenamento, tanto allenamento, si allena veramente tanto. Hai parlato di cultura sportiva, in Italia pensi che siamo ancora lontani? Purtroppo sì, purtroppo sì perché come ho avuto la fortuna praticando questo sport di conoscere tante persone in Italia e nel resto del mondo. Mi rendo conto che persone che all'estero vengono considerate leggende, personaggi che vanno in giro e vengono salutati, ingraziati dalle persone, in Italia quasi danno dello scemo, dicono ma scusa, che fai? Guarda che hai 24 anni, devi andare a lavorare, devi fare, devi brigare. Non sei aiutato nel cercare di coltivare il tuo sogno sportivo e poi essere introdotto nel mondo del lavoro. Mentre invece là sono proprio la cultura che ti porta a vivere su un piedistallo, perché proprio è la gente che ce l'ha nel sangue e quindi ti vede a te come una sorta di idolo. E in più sono le aziende che poi ti vengono a cercare o ti aiutano nell'inserimento, hanno programmi ad hoc per gli atleti. Per ogni singolo atleta a partire dalle scuole, purtroppo qua in Italia siamo veramente a livelli minimi. Tu a che scuola hai frequentato, Vincenzo? Io ho fatto il liceo scientifico. Quindi impegnativa come scuola. Sì. Sei riuscito a conciliare sport e scuola? Volere e potere. Io andavo a allenarmi prima di andare a scuola e poi andavo di nuovo dopo scuola. Ha gente che dice che con tre allenamenti a settimana non riesco a studiare. Se lo vuoi lo fai. Rinunci ad andare al bar con gli amici, rinunci a uscire la sera, ti svegli prima la mattina. Sono solo scuse. E sono rinunce che non pesano, perché questa vita l'hai scelta tu, la fai con una passione ed impegno e di sicuro se una sera non si esce con gli amici, non si va al bar o in discoteca, non succede nulla. Anzi, l'obiettivo è quello. Sì, l'obiettivo è la cosa più importante. Dire che non pesano è difficile, perché comunque la società odierna è quella che è. Se hai portato, poi io vengo da Roma, ti offre tutto. È vero. L'ambiente che ti circonda, gli amici, è difficile rinunciare alle comodità, a queste cose effimere, però poi quando hai davanti a te l'obiettivo e pensi a quello che stai facendo, a quanto stai dando, a cosa stai rinunciando, ti scordi di tutto, solo per la medaglia. Cioè, sei appassionato di calcio? Sì. Della? Della Lazio. Grazie a Otto Doc. Ci vai allo stadio ogni tanto, quando puoi? Quasi sempre. Quest'anno no, mi sta divertendo. Anche le condizioni come andare allo stadio non è più una festa, non è più divertente come prima. Ogni anno è sempre peggio, ci sono sempre più restrizioni per colpa di pochi scemi, fra un po' sembra, se tu vai allo stadio sei un criminale, a prescindere quindi i controlli, non puoi comprare il biglietto il giorno stesso, tu non puoi svegliarti la mattina e dire, oggi è proprio il piacere di andarmi a vedere una partita di calcio. No, ci sono troppe costrizioni, troppe limitazioni, non c'è più lo spirito che c'era una volta. Hai ragione, purtroppo hai ragione. Il tuo sogno nel cassetto? Ora vincere le Olimpiadi, senza un bel dubbio. Luca al lupo. Che farai invece da grande? Quella è una bella domanda. Io nel frattempo sto studiando, sto prendendo la laurea in economia e commercio, poi ho un progetto avviato con la mia famiglia, nella quale abbiamo preso un pezzetto di terra vicino Roma, dove vogliamo costruire un galleggiante con strutture per fare canottaggio, e renderli accessibili a tutti, pure a persone che hanno disabilità. E sulla terra invece fare orti urbani, e anche essi per gente disabile o per chiunque abbia la passione di averci un proprio orticello e vedere il frutto del proprio sudore venire su. Quindi nel frattempo ho preso pure l'abilitazione come imprenditore agricolo, mi sto dedicando a questo. e ho rilevato dopo Londra un bar che sto gestendo insieme a mia madre e a mio fratello. A Roma? A Roma. Dici il nome che se capitiamo... Mondi Caffè, a Via Cortina d'Ampezzo. Ok, vedi, a Via Cortina d'Ampezzo ce la ricordiamo, ripeti ancora il nome? Mondi Caffè. Non mancheremo, mi raccomando. Vincenzo, siamo in chiusura, di cuore un grossissimo bocca al lupo, Livigno ti farà per te, per voi, e grazie di nuovo per aver accettato il mio invito, grazie. Grazie a te. È tutto per questa sera, grazie per la cortesa attenzione, ci rivediamo mercoledì prossimo. Buona serata.